La musica è un dono di Dio che parla al cuore, così recita la copertina della pagina Facebook di Don Matteo Vasco della Diocesi di Siracusa. Con chitarra e voce il giovane parroco esorta a cantare per non sentirsi soli in questo periodo difficile di restrizioni a causa del coronavirus. Ecco le note di questa canzone che ha fatto il giro del web. E adesso guardo indietro e vedo quel che hai fatto in me, paure svanite, sbagli indipinti, errori ripresi, in ciò che di bello c'è, in ciò che di bello c'è. Quando sto qui con te il tempo si ferma ed io mi fermo con te. Quando sto qui con te il tempo si ferma ed io riparto con te. Dove io non ne devo più nulla, tu eri sconfio di me. Quando sto qui con te il tempo si ferma ed io ripresi, in ciò che di bello c'è, in ciò che di bello c'è, in ciò che di bello c'è. Quando sto qui con te. orsa tutto che in me. Ho Marco damit. Show la. Quando sto qui con le bananas. Grazie. La scuola e bene. Ecco. In me. Ma.